Sono Maria Grazia Porcedda, ricercatrice nel Dipartimento di Legge dell'Istituto Universitario Europeo e lavoro nel progetto Surprise, sorveglianza, privacy e sicurezza, nell'ambito del quale l'8 febbraio 2014, sabato 8 febbraio 2014, l'Istituto invita 250 cittadini residenti nella provincia di Firenze per partecipare ad una giornata di lavori organizzata con metodologia del town meeting o evento partecipativo per esprimere la loro opinione sulla relazione tra la sorveglianza, la privacy e la sicurezza, in particolare l'utilizzo dei dati, delle informazioni prodotti dalle tecnologie della quotidianità a scopo di sicurezza. L'evento si svolgerà presso il Palazzo degli Affari, in piazza A2-1, dalle 10 del mattino alle 4 e mezza del pomeriggio e si svolgerà con una metodologia strutturata che vedrà la discussione dell'uso del Deep Packet Inspection, della geolocalizzazione degli smartphone a scopo di sicurezza e permetterà ai cittadini di elaborare le loro raccomandazioni ai politici nazionali ed europei sull'impiego di queste tecnologie a scopo di sicurezza.